Tre giorni. Vabbè, insomma, non è un gran problema se non scompare per tre giorni, no? Magari è malato, ha un'interrogazione. Mi mando un emoticon. Sì, sì. Tipo, la ragazza che balla. No, no, no. La ragazza che balla. No, no. La ragazza che balla, no. Eh, dai. Guarda, ascoltami perché te lo chiederò solo una volta. Davide. È Gesù? No, no. No, no. Davide non è Gesù. Gesù è morto duemila anni fa. Gesù non c'è più. E quindi Davide è Davide. Non è morto e non risorge tra tre giorni. Davide sta facendo sesso con un'altra. Sì, lo so, lo so. Guarda, fa male. Oh, mamma mia, se fa male. Però tu, a trent'anni, Gianna, dai. Non puoi dipendere dalla telefonata di un ragazzino. Guarda, stasera c'è la festa di Natale dell'ospedale. Non è un granché. No, non è un granché. Però tu fai come fanno tutti. Mettiti un vestito e bevi. Eh? Bevi. Grazie. Grazie. Grazie.